benvenuti a questo tutorial video decisamente estivo nel quale voglio fare un confronto con un metodo scientifico fra l'interfaccia GNOME 2 cioè quella che vedete qui praticamente alla sinistra con i classici menu la discesa e con il pannello superiore con le varie icone e notifiche varie dunque facciamo finta che la Doki qui in fondo non ci sia perché è già un'aggiunta non naturale per GNOME 2 dunque GNOME 2 fa ancora parte della versione Ubuntu 10.0.4 che è quella che ho ancora installato fisicamente sul mio PC mentre Unity fa parte della nuova proposta di Canonical per Ubuntu allora, in cosa consiste il mio confronto scientifico? diciamo che le critiche che sono state fatte ad Unity sono prevalentemente, vertono prevalentemente su una vera o presunta scarsa efficacia ed efficienza della nuova interfaccia allora, prima di mostrare il mio confronto io ho installato una premessa che è la seguente io ho installato in una virtual machine la prossima avventura Ubuntu 10 11.10 di quest'autunno e purtroppo al momento VirtualBox non sopporta l'accelerazione 3D, grafica 3D quindi in VirtualBox non posso usare Unity 3D ovvero la sorella maggiore fra le due interfacce Unity ma posso usare solo Unity 2D, ovvero la sorella minore le differenze fra le due interfacce a parte le ombreggiature appunto i vari effetti compis dell'accelerazione 3D non sono, a dire la verità, avvistali ma comunque ci sono inoltre la nuova Ubuntu, la futura nuova Ubuntu si trova in uno stato Alpha Alpha vuol dire che non è, diciamo, è usabile ma contiene ancora parecchi difetti non è, fra l'altro, completamente tradotta in italiano o perlomeno non si presenta tradotta completamente in italiano lo vedete già da qui, da questo menu di sessione System Setting, Display, tutto in inglese poi c'è un blocco a schermo, un termine a sessione in italiano un sospendi, insomma, è un po' misto quindi questo può anche influire sul nostro confronto come vedremo fra poco allora, io mi sono preparato una piccola griglietta dove voglio mostrare le effettive differenze fra le due interfacce nel richiamo, nell'apertura dell'applicativo per la calcolatrice l'applicativo è semplice esiste sempre in tutti i sistemi operativi non andiamo a cercare tanta complessità come ho detto è un video estivo quindi fa caldo non facciamo troppa fatica allora, ho creato un paio di colonne per Gnome 2 e un paio di colonne per Unity di cui in uno andrò a contare più o meno oggettivamente cercando di essere preciso i movimenti del mouse e i click necessari con il mouse per aprire la calcolatrice con Gnome 2 e rispettivamente facendolo con le corrispettive scorciatoie da tastiera e la stessa cosa andrò a fare con Unity quindi i movimenti, i click del mouse e i scorciatoi da tastiera allora, vediamo un po' partiamo da Gnome 2 quindi dalla vecchia interfaccia dal Gnome ormai abbandonato nello sviluppo ufficiale ma ancora ben presente nell'Ubuntu a lungo supporto 10.04 quindi, io mi trovo davanti allo schermo e voglio aprirmi la calcolatrice allora, ammesso di conoscere un po' con l'interfaccia quindi non facendo finta di essere un utente completamente di Gnome io so che devo andare a cercarmi fra i menu e la calcolatrice quindi vado con il mouse sul menu un movimento faccio un click apro il menu e poi mi devo cercare la calcolatrice dove sarà? potrebbe essere sotto ufficio quindi mi sposto con il mouse in giù no tanto mi si apre il menu a discesa, a cascata non è qui la calcolatrice allora sarà sotto accessori torno su e in effetti ecco qua la calcolatrice vengo in calcolatrice secondo click ho aperto la mia calcolatrice quindi diciamo che non interpretando il ruolo di un utente completamente di Gnome ma di un utente che non necessariamente conosce a memoria i menu a cascata ho fatto in media diciamo quattro movimenti di mouse e due click per riuscire a individuare dove sta la calcolatrice quindi diciamo che togliamo un movimento aggiungiamo facciamo quattro diamogli un valore di quattro fra click e movimenti giusto per non esagerare adesso scorciatoide a tastiera chiudiamo la calcolatrice dunque qui ovviamente io devo conoscere se sono un utente che non conosce non ne so nulla di scorciatoide a tastiera di Gnome però interpretiamo l'utente che lo sa quindi alt più f1 scorciatoide a tastiera e 1 poi freccetta giù diciamo che questa volta so già dove è la calcolatrice quindi i due movimenti movimento verso destra 3 e poi 1, 2, 3 movimenti per prendere la calcolatrice che fanno 6 che fanno 7 volendo fare tutto con la tastiera abbiamo 7 movimenti con il mouse 4 ma magari 5 diciamo che se so già dove è la calcolatrice con il mouse vado su sul menu poi un click scendo negli accessori e scendo verso la calcolatrice diciamo che è una buona media 4 quindi con il mouse apparentemente si è comunque più veloci che con la scorciatoide a tastiera e in più con il mouse si devono avere meno conoscenze pregresse dell'interfaccia bene passiamo ai unity con tutti i limiti di cui ho già parlato prima che non è ancora pronta non è ancora tradotta perché sottolino il tradotto perché se cerco calcolatrice come vediamo fra un attimo un conto cercato in italiano un conto cercato in inglese per fortuna che le prime lettere calc fino a calc sono uguali allora adesso passiamo ai unity e quindi ci troviamo nella nuova interfaccia andiamo con il mouse quindi dobbiamo anche qui non interpretiamo l'utente completamente digiuno comunque come per il menu di Gnome 2 andiamo a cercare la nostra dash con il mouse quindi saliamo un click e qui noi stiamo cercando la calcolatrice quindi iniziamo a scrivere 2 un tasto e scendiamo con il mouse ecco qua c'è già la calcolatrice sto scrivendo C ce la presenta già quindi 3 l'ultimo click 4 par condicio calcoliamo 4 anche per unity potrebbe addirittura essere ridotto a 3 ma ripeto par condicio non voglio favorire niente il mio in confronto rigorosamente scientifico quindi non tengo la parte né non 2 né 4 anche di qua scorciatoide a tastiera facciamo la stessa cosa ripartiamo da 0 allora tasto super e 1 si apre la dash schiaccio C di calcolatrice la vedo già e 2 poi freccetta giù 1 2 1 2 e poi devo posizionarmi sulla calcolatrice 1 2 3 in questo caso insomma 3 quindi 1 2 3 movimenti calcolatrice eccola qua ripeto per essere sicuro di aver calcolato giusto non aver fatto un po' di casini quindi super tasto super per il dash inizio a cercare la mia calcolatrice oh la vedo già scendo 1 2 3 4 calcolatrice quindi a tastiera diciamo che le core scorciatoie sono meno di 7 comunque facciamo tra 4 e 5 a dipendenza di dove si trova magari il cursore del mouse in quel momento per l'icone sotto facciamo 5 ecco quindi nella pure e semplice apertura della calcolatrice vediamo che Unity è leggermente più efficace al contrario delle numerose critiche che dicono che Unity è lenta come interfaccia non è efficace allora un'altra critica probabilmente più fondata è che se non si conosce il nome dell'applicativo del programma da avviare con interfacce tipo Unity si è diciamo fregati perché non si ha la possibilità di scorrere i menu insomma ecco vediamo che il classico menu a discesa a cascata comunque ci permette comodamente con pochi clic e movimenti del mouse di scorrere e scorrere e valutare menu per menu un po' come ho fatto all'inizio dove ho fatto finta di non sapere che la calcolatrice fosse fra gli accessori magari in ufficio perché si usa la calcolatrice in ufficio e allora ho scorso i miei menu cercato ho visto non ho visto un nome calcolatrice e si cerca ecco in interfaccia tipo Unity con Home Shell si critica il fatto che una volta aperta la dash e ora cosa scrivo cosa sto cercando ecco evidentemente è molto molto importante la qualità del motore di ricerca che sta dietro ovviamente se io inizio a cercare la calcolatrice ok calculator non è così difficile probabilmente LibreOffice so che si chiama Calc il foglio di calcolo inizio anche lì a cercare come calcolatrice ed eccolo in seconda posizione è possibile che in certe situazioni non mi ricordi più come si chiama una certa applicazione e quindi come faccio a trovarla se non ne conosco esattamente il nome vedete per esempio come si chiama l'applicativo che gestisce le fotografie provo con foto istintivamente ma non mi esce niente magari in inglese e voilà questo è quello che vi dicevo l'importanza di non giudicare Unity a lo stato corrente di Alpha provandolo localizzato in italiano completamente ecco perché io non mi ricordavo che il gestore di fotografie si chiamasse Shotwell ecco il primo nome qua Shotwell ecco chi se lo ricorda quindi istintivamente dice ok devo cercare qualcosa che mi gestisca le fotografie quindi io ci ho provato in italiano ho iniziato a scrivere foto ma ovviamente non essendo completamente localizzato Unity per il momento non me lo trovo in italiano allora lo cerco in inglese e eccolo lì Shotwell Photo Manager posso anche cercare ciò che ci sono manager perché il gestore di fotografie è un manager di fotografie così come ci sono i manager dei pacchetti come c'è il manager delle password dei messaggi diciamo che il tutto è molto intuitivo e facile a patto che il motore di ricerca dietro sia efficiente e che tutta l'interfaccia sia localizzata nella lingua dell'utente che lo sta usando perché appunto avete visto se i termini non si trovano nella propria lingua si resta spiazzati rispetto ai menu tradizionali quindi forse ma solo forse un attimino di spiazzamento in più c'è ma proprio nei primi momenti di utilizzo direi perché poi avete visto che sapendo che qualcosa ancora in inglese in realtà le si trovano le cose se proprio proprio non se ne sa niente si può fare click sulla specifica categoria dell'applicazione anzi torniamo qui vediamo un po' applicazioni adesso non so esattamente se funziona tutto perché ripeto siamo in alfa oltretutto Unity 2D non presenta ancora qui sulla destra le varie sottocategorie di applicazioni come si vedono gli screenshot degli Unity 3D perché se io cerco in realtà qui sulla destra adesso nelle ultime versioni viene già presentato una serie di pulsanti per scremare per filtrare i risultati a seconda delle categorie che sono applicazioni di sistema di ufficio eccetera è un po' la replica anzi non un po' è la replica se vogliamo di questo menu principale del menu a cascata quindi ci sono dei pulsanti qui sulla destra che replicano giochi grafica programmazione strumenti di sistema eccetera ecco e questo è quanto volevo mostrarvi in questo video ripeto un po' dal carattere estivo ma non più di tanto perché vedete che di fatto utilizzando le due interfacce la differenza è veramente minima con addirittura un piccolo vantaggio per Unity quindi a mio modo di vedere in questo confronto ripeto rigorosamente scientifico si denota che è l'abitudine ancora che fa superficie nelle critiche piuttosto che l'oggettività perché non è così vero che Unity è più lenta che Unity è meno efficace meno efficiente di GNOME 2 anzi spero che questo video vi sia piaciuto e vi saluto alla prossima